...per essere il forza forte, di qua non si scappa, perché altrimenti non avremmo le mie, questo ha avuto successo. Invece noi avremmo desiderato poter premiare tantissimi altri artisti, i quali veramente ci hanno fatto quelle grandi soddisfazioni. Da noi sono usciti artisti che hanno avuto ottimi risultati. Ho detto, voglio continuare a fare delle cose di grande risonanza, come questa, e anche di rilevanza nazionale su queste risonanze in questo momento. Però con estremità, andando a guardare qui, senza perdere di vista quello che c'è stato fatto. Quindi, sotto questo aspetto, io presento questa rassegna. Una rassegna che sta voluta così fuori dell'ambiente nel quale è stata identificata nel suo soggetto. ...tenendo conto di un'altra cosa, che le opere premiate sono state realizzate nell'arco di una giornata lavorativa. Significa praticamente passare dall'emozione immediata all'altezza del sentimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.